Noi abbiamo sempre approvato il bilancio come quello dello Stato e delle Regioni entro il 31 dicembre. Quest'anno, grazie alle fusioni che ci sono state, abbiamo un po' di respiri in più. Ci sembrava buona norma dare a 6-7 mesi dalla fine del mandato alla struttura la capacità piena, non in dodicesimi, di avere tutte le risorse disponibili per realizzare gli obiettivi. E in terzo luogo abbiamo avuto, grazie alla fusione, 3 milioni di avanzo di amministrazione del 2022, abbiamo avuto circa 15 milioni in questi 9 anni sempre dalla fusione e abbiamo avuto confermati, se non la ragioniera non avrebbe fatto così veloce il bilancio, diciamo per i prossimi 5 anni chiunque governerà questa città, questo comune, abbiamo avuto 1 milione 6 per 5 anni, che vuol dire avere più serenità. E poi ha fatto un lavoro di ripulitura insieme agli altri tre responsabili di servizio, la ragioneria, di forte contenimento negli investimenti, di estinzione di molti mutui e quindi anche molte risorse esterne, abbiamo avuto solo 2 milioni e mezzo sulla rigenerazione urbana, un milione e due per il nido, sempre fuori bilancio dallo Stato, ci consentirà di fare 3-4 investimenti enormi, 2 milioni e 4 sul palassetto dello sport per portarla a 10 metri, 1500 posti, per consentire alla squadra di Serie A femminile di fare i campionati europei, qualora dovesse andare bene i campionati italiani, ma anche di pallacanestro, oppure, che so, diciamo, 900 mila euro nelle mura castellane, sempre dalla rigenerazione urbana, col Bordolo, stiamo lavorando con l'università, per Sant'Angelo, col Bordolo e Montefarbi, per rendere fruibile anche le grotte, anzi, ci hanno già fatto anche dei preventivi, Lorena, tieniti pronta, ci vorranno un altro po' di soldi per rendere fruibile le grotte, ma anche dal punto di vista turistico, veramente siamo, dopo 9 anni di governo, date le risposte su tutte le cose più significative, il raddoppio del depuratore, il comune nuovo, in legno, le scuole nuove, quasi tutte in legno, tutte antisismiche, la piazza nuova e la ciliegina e la torta, dopo aver ristrutturato il Teatro Branca, Sant'Angelo dell'Issola, il nuovo Teatro Giovanni Santi, che si inaugurerà entro la fine dell'anno e che consentirà in tutta quest'area, dove, tolto, pisero, fan, urbino, non c'era un teatro, di averne due, il Teatro Branca di Sant'Angelo dell'Issola e il Teatro Giovanni Santi, perché dopo che la gente mangia e beve, cia il lavoro e fa i figli, ha bisogno anche di essere un pochino attenta sui temi della cultura e così via. Quindi siamo particolarmente, io ho ringraziato gli assessori, il Consiglio Comunale, perché questo bilancio è stato votato con un solo voto contrario, quindi quasi all'unanimità, quindi la dice lunga.